Un passo indietro a Teramo pari giusto 0-0. Le migliori occasioni nel primo tempo ripresa invece anonima con zero tiri e pochissime idee. In realtà il solito limite confermato dai bianchezzurri quando affrontano squadre che si chiudono. Se la palla non viaggia velocemente, se non ci sono giocate codificate, è difficile e complicato fare breccia nelle difese avversarie. E quanto accaduto nel secondo tempo? I centrocampisti non hanno le caratteristiche tipiche dei cursori e giocano palla addosso. In simili casi a fare la differenza devono essere gli attaccanti che però non hanno lasciato il segno. Soprattutto gli esterni, clemenza deludente, solo un paio di fiammate di dursi che non rischia un dribbling. Sembra più un esterno da 4-4-2, gioca sempre sulla linea e in orizzontale. Insomma, rispetto alla prova scintillante sfoderata col Cesena, il passo indietro, così come riconosciuto da tutti a fine partita, è stato evidente. Ci si aspettava di più, ma il punto non è da buttare. Il Delfino ha staccato infatti Lentella, sorprendentemente sconfitta a Grosseto, ed è a meno uno dal Cesena che nel posticipo ospiterà la Reggiana. In fase offensiva le cose migliori nella prima frazione. Un ottimo intervento di Perrucchini sul destro a giro di Dursi, la provvidenziale diagonale di Mordini, soprattutto il salvataggio sulla linea di Arrigoni. Tre occasioni figlie di uno spunto individuale, di un contropiede e di un calcio da fermo. Nella ripresa decisamente meglio il Teramo, organizzato benissimo in fase difensiva, con linee strette. Prima 5-4-1, poi 5-3-2, ma anche intraprendente e pericoloso con De Grazia, Bernardotto e Jacoponi. In classifica 20 punti di differenza, eppure in campo non si è notato.